Gentili telespettatori, buona giornata. Val di Tara dice a che serve studiare i dinosauri? Sentita così sembra una cosa superficiale, invece non lo è. Invece non lo è. È come quando dico io, dico caspita, piuttosto che imparare una seconda lingua alle medie, cominciamo a imparare l'italiano. Ecco, prima di imparare una seconda lingua impariamo a utilizzare l'italiano correttamente, a coniugare i verbi. Val di Tara più o meno dice la stessa cosa, piuttosto che studiare i dinosauri, studiamo la storia recente, studiamo qualcosa che si tralascia nelle scuole. Eh sì, il ministro dell'istruzione del merito, intervistato, parla dei programmi scolastici a suo dire un po' troppo vasti. C'è troppa roba, dice Val di Tara. In terza elementare si vanno a spiegare tutte le specie dei dinosauri. Tutto questo a che serve? E poi noi non conosciamo le esperienze più importanti del nostro passato che ci hanno dato i grandi valori dell'Occidente. Bisogna semplificare per far prevalere la qualità sulla quantità. Sì, in effetti che all'elementare gli dici e gli spieghi tutti i nomi dei dinosauri, va bene. Però gli hai spiegato tutte le altre cose ai bambini e alle bambine? Tutte le altre cose gliel'hai spiegate per bene? Sanno coniugare i verbi? Sanno cosa sono i verbi irregolari? Sanno scrivere una frase di senso compiuto? Perché se devo scegliere tra aumentare le competenze grammaticali e dirgli ai bambini ci sono esistiti dinosauri, gli fai tutta la spiegazione e poi basta. Non è che gli fai ore e ore parlandogli di quello che aveva la cresta, quello che aveva la zampa più lunga, però poi non sanno scrivere in italiano. Poi arrivano all'università che non sanno scrivere una frase in italiano, però all'elementare gli avevano spiegato tutte le specie dei dinosauri. Quindi quello che dice il professor Valditar è assolutamente condivisibile. E poi aggiunge non concepiamo una didattica fatta sul cellulare che ha effetti molto negativi sul bambino, sulla sua concentrazione e creatività e ci sono tanti studi su questo. Il web è un grande oceano dove alla fine ci si perde. Bisogna certamente ritornare all'importanza del libro, della scrittura. Poi c'è il tablet, va bene, è importante, perché oggi si tende a sostituire il tablet, il computer, con i libri. Io ricordo che una volta parlavo con un mio collega, un francese, e gli dicevo nelle case oggi la gente non ha più libri. E lui, ma vabbè, ma cosa vuol dire? C'è internet oggi. C'è internet. Quindi nelle case non c'è né un vocabolario né niente, perché c'è il computer. Lì sopra c'è tutto. E invece l'importanza del libro è fondamentale, del libro, della scrittura. Quindi sono d'accordo con Valditara. Naturalmente la notizia che poi è apparsa è Valditara, due punti, a che serve studiare i dinosauri? Si cerca poi di denigrare quello che dice Valditara, come dire il solito sempliciotto di centrodestra, ministro, che ti dice che non serve a niente studiare le cose. Ma andando a leggere le dichiarazioni di Valditara si va a capire che quello che dice è assolutamente condivisibile, come quello che vi dicevo prima. Io vedo anche i miei figli che gli fanno studiare l'inglese, l'inglese, e fai le classi d'inglese, e parla l'inglese. E poi mi rendo conto che non sanno coniugare i verbi. Dico, ma prima impara la tua lingua bene, e poi fai l'inglese, il francese, quello che vuoi. Ma prima devi fare bene la tua lingua. Perché è brutto non potersi esprimere. Guardate che è brutto pensare le cose e non sapere come dirle agli altri. Tanti hanno questo problema. tante persone che non hanno potuto studiare, che hanno interrotto gli studi molto precocemente, sono rimasti con delle lacune gigantesche sull'italiano. E guardate che è brutto pensare, voler esprimersi, voler comunicare agli altri un proprio pensiero e non si sa come. Come lo dico, come lo faccio, come lo scrivo, come lo penso. È brutto non poter comunicare. La stessa cosa quando uno va in un paese straniero e vorrebbe andare a parlare agli altri come in italiano, come nella sua lingua, parlando tranquillamente agli altri, dice vorrei dire, ma non so, non riesco, non conosco la lingua. Vorrei parlare con quello e chiedergli una cosa, non vorrei alla hall dell'hotel chiedere, ma non ho le parole. Ecco, questa è la stessa è la difficoltà che vi raccontavo prima di quelli che purtroppo non conoscendo la propria lingua non riescono ad esprimersi in senso compiuto. Questa intervista Valditara l'aveva fatta a futuro direzione nord parlando proprio dei programmi scolastici che sono troppo vasti forse bisognerebbe per esempio si arriva alla quinta superiore alle scuole superiori si arriva alla quinta superiore che si devono preparare gli esami di maturità. Quando io sono arrivato alla quinta superiore che c'era da studiare la storia del novecento i professori ci hanno detto no beh da adesso da metà anno lasciamo perdere i programmi leggeteli voi da pagina centocinquanta a pagina quattrocento leggete voi perché noi dobbiamo concentrarci per prepararci all'esame di maturità. Quindi io ricordo che la storia del novecento che era proprio programmata nella quinta superiore non era stata fatta perché bisognava prepararsi per l'esame di maturità. Storia del novecento zero prima guerra mondiale seconda guerra mondiale crisi di Cuba guerra del Vietnam niente zero assoluto è questo che vi dico purtroppo nei programmi scolastici ci sono delle cose che non vanno come quella che diceva Valditara tutte le specie dei dinosauri e poi non sanno le cose più importanti del nostro passato quindi anche alle elementari si arriva poi ad accennare i fatti del novecento però sui dinosauri li hanno fatto ai bambini una testa così che bastava guardare Jurassic Park e avevi tolto tutte le tue curiosità sui dinosauri vabbè poi si dice che i dinosauri probabilmente erano piumati come le galline quindi erano delle grosse galline gigantesche però a noi la rappresentazione del dinosauro è diversa non ci sono piume nei dinosauri però da quello che si immagina è che erano ricoperti di piume come le galline dei giganteschi gallinacei bene grazie a tutti e arrivederci a presto un saluto anche ai gallinacei